24 maggio 2002 trattato di mosca nella sala del trono degli zar vladimir putin e george w bush firmano il trattato che impegna russia e stati uniti a ridurre di due terzi gli arsenali nucleari strategici è il primo accordo di disarmo firmato dalle due superpotenze dopo lo start 2 del 1983 una giornata storica per il mondo dichiara il presidente americano subito dopo la firma ma c'è un concreto ostacolo il trattato prevede che le ogive nucleari già installate circa 6.000 siano ridotte in dieci anni a un numero tra 1700 e 2200 ma non indica cosa fare delle testate nucleari smantellate distruggerle come chiedono i russi o stoccarle come preferirebbero gli statunitensi i due statisti concordano almeno sulla necessità di non permettere che armi di distruzione di massa finiscano nelle mani di terroristi in attesa della ratifica parlamentare da parte della duma russa e del congresso di washington i due presidenti firmano altre dichiarazioni congiunte sulla cooperazione bilaterale economica sulla cooperazione energetico petrolifera sulla circolazione delle persone sul medio oriente nella dichiarazione sulla stabilità strategica che accompagna il trattato si proclama solennemente è finita l'epoca in cui russia e stati uniti si vedevano come nemici e rappresentavano una minaccia strategica l'uno per l'altro ora sottoscrive putin seguito dal suo ospite siamo partner e collaboreremo per promuovere la stabilità e la sicurezza grazie a tutti 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 grazie a tutti